E' importante da tutti i ragazzi che sono qui nel locale, ripetere insieme a me queste parole, questa musica elettronica, questa musica serifonica. La musica elettronica, questa musica ilettronica, questa musica è importante dal locale, ripetere insieme a me queste informazioniwoo. Chi non canta insieme a me non trova più per tutta la vita Da questo momento, da questo momento, il gioco si fa sempre più duro Attenzione, da questo momento, chi non batte le mani a tempo di musica non trova E dico, non trova per cursa la vita Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti